Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Sahar e oggi finalmente sto girando questo video Raga per poterlo girare non avete idea, ho dovuto veramente aspettare tipo 3 giorni per poter girare questo video Perché sono stata nella mia città dove vivono i miei e c'è stato un tempo veramente terribile Ma fortunatamente sono tornata nella città dove studio qui ad Enna e qui ho tutta la mia attrezzatura, tutte le mie luci E posso realizzare finalmente questo video e questo look con voi I miei capelli sono abbastanza indisciplinati come potete vedere Però stanno pian piano riprendendo il loro riccio naturale che voi non avete mai visto perché mi avete conosciuta direttamente con i capelli decolorati Però credetemi avevo dei ricci veramente molto belli quando ancora avevo i capelli sani Detto ciò io direi di togliere tutto questo ammaragamme di capelli da davanti E oggi ho portato con me un ospite d'eccezione perché insomma potevo non portare con me il mio orecchietto da gattina Perciò mettiamo il cerchietto, tiriamo indietro tutti i capelli e iniziamo subitissimo Come primissima cosa vado a prendere una sabbiettina struccante e vado a rimuovere tutto quello che c'è sul mio viso Non perché io non mi sia lavata stamattina o peraltro Semplicemente perché sono all'impiede da tipo le 5 e adesso sono le 10 Quindi sono passate già 5 ore da quando mi sono fatta la doccia E inoltre ho affrontato un viaggio in autobus C'è molto tempo, c'è stato vento Quindi insomma per andare a rimuovere tutto lo schifo dal mio viso Vado a passare la sabbiettina e prima ho comunque già passato all'acqua micellaria Quindi comunque questo è uno step aggiuntivo che voglio fare Per riuscire a avere la pelle il più pulita possibile da tutto lo schifo Comunque io dopo aver registrato il video della burro birra che vi lascio qui sopra Ho letteralmente rotto il cavalletto Per cui stamattina mi sono cimentata nella riparazione del cavalletto Che comunque l'ho riparato diciamo alla meno peggio Con il super attack Questi sono praticamente i pezzi di colla super attack Che mi sono rimasti sulle dita Quindi insomma anche stamattina Le avventure di Sar sono andate per il meglio Allora io direi di partire subitissimo dalla base Perché voglio prepararla al meglio per poter reggere una bellissima full face Perché ho proprio intenzione di andare a realizzare una full face di quelle belle toste Ho ancora tutti i trucchi nei beauty perché mi sono portata i beauty Tipo 4 beauty di roba Perché pensavo di realizzare almeno 2-3 look Non solo per youtube ma anche per instagram E invece non ho potuto realizzare niente Perché il tempo non me lo ha permesso Allora io vado ad utilizzare sempre il mio primer Della Rimmel Il lasting finish Che in teoria dovrebbe avere una durata Di 8 ore Cioè permette il fondotilla di durare All'incirca 8 ore E io lo vado cercando di utilizzare le dita meno incollate Lo vado a stendere su tutto il viso Perché come sapete la mia pelle ha bisogno di primer Ha bisogno di sieri Ha bisogno di qualsiasi tipo di preparazione Che possa esistere Perché è iper mega grassa Quindi davvero Se io non andassi ad utilizzare tutti questi prodotti Potrei benissimo prendere qualsiasi fondotinta opaco Con una tenuta di 24 ore Però non avrebbe comunque il risultato che promette sulla mia pelle Poiché produco un'eccessiva quantità di sebo Che veramente penso che il sebo che produce la mia pelle Lo produce l'intera popolazione mondiale Però Ok Raga fare tutto con una mano è tipo Assurdo Però voglio evitare di utilizzare questa qui Più che altro perché appunto Ci sono questi piccoli residui di colla E non Non mi va molto di andare ad utilizzarla Sulla pelle Ok Va bene Io direi che Lasciamo asciugare il primer L'ho messo anche sugli occhi Anche se comunque adesso andremo ad utilizzare Il correttore E oggi raga Farò una full face Ma proprio full face Perché dovete immaginare Che io oggi andrò pure a Disegnarmi le sopracciglia Cosa che io non faccio mai nella vita Infatti non me le so disegnare per niente bene Ma proprio per niente Però oggi ho deciso che Faccio una full face Degna di essere definita Tale Per cui io direi che adesso Tutti questi processi di Sopracciglia Base occhi Eccetera Io li velocizzo al massimo In modo che Stringiamo i tempi Perché mi sono resa conto Che gli ultimi video che ho fatto Raga Durano tutti Sui 25 30 minuti Che rotture di base Vorrei cercare di far durare Questo qui massimo 15 minuti Dai La faccio solo per voi Quindi Velocizzo il tutto Ovviamente voi vedrete Ogni singolo passato Semplicemente lo vedrete Velocizzato Quindi io direi Che adesso Chiudo qui E noi Ci vediamo dopo aver fatto Tutta la zona Dopo aver preparato La zona Chiudata Ciao Raga Ci ho messo tipo 20 minuti Solo per farmi Le sopracciglia Soprattutto perché Io non sono Diciamo Una maga Delle sopracciglia Però Tutto sommato Devo dire che Il risultato Mi soddisfa Abbastanza Non le ho fatte Iper mega Piene O iper mega Forte Le ho semplicemente Riempite un pochino Perché comunque Io ce l'ho abbastanza Forte di mio Solo che Tendono ad avere Qualche buco Così Quello Quindi le ho riempite Un pochino Le ho dato loro Una forma Decisamente Più definita E Ovviamente Le mie non sono Mai simmetriche Ma perché Le mie sopracciglia Naturali Non sono Simmetriche Però comunque Il risultato Così Mi piace Davvero Davvero Tanto Ci ho messo 20 minuti Quindi diciamo Che Se mi devo preparare Per uscire E ho poco tempo Le sopracciglia Non sono proprio La cosa Che vado a guardare Maggiormente Ecco Io direi Che nelle teste Mi giro un po' L'idea Di fare qualcosa Di veramente Molto Extra Quindi Anche qui Vi velocizzo I passaggi Più che altro Perché non so Nemmeno io Esattamente Cosa andrò A creare Quindi vi velocizzo Un po' Tutto Ovviamente vi faccio vedere Le palette E le ombretti Che utilizzerò Qualsiasi prodotto Che utilizzerò Ve lo farò vedere Però Sarà tutto Molto velocizzato Tutto molto rapido In modo che Voi potiate Che sto dicendo In modo che Voi possiate Vedere Comunque La realizzazione Del make up Però senza Senza troppe Insomma Ci siamo capiti Quindi io direi Che Ci vediamo Quando Il trucco occhi È terminato Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Ce Di D Mi raccomando Di Vi Vi Di Grazie a tutti. 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 E passo all'applicazione e alla stesura dei miei due fondi che sapete sto utilizzando praticamente nell'ultimo periodo per ottenere il mio colore di pelle naturale. E qui niente velocizzo tutto e ci vediamo quando ho finito la base. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. faccio. faccio. inferiore. adesso sono deciso di applicare una matita nella rima inferiore. ma non lo so. non lo so. questo non lo so. quindi lasciamo perdere. però vado a creare i miei punti l'altro. con l'illuminante. questo è sempre quello di questo è il mio colore. che rendo il mio colore. che è il mio colore. dicevo che non lo so. esattamente se questo è il mio colore. è il mio colore. è il mio colore. non lo so. quindi non lo so. è il mio colore. dovrò ovviamente. sono sicura. che questa base regge. appena uscirà. seguite su Instagram. e quindi mi raccomando.